Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video qui sul mio canale quest'oggi andrò a giocare semplicemente a salvare il mondo per un gameplay e niente, godetevi il video, ditemi se vi piace il gameplay con la musichetta di sottofondo e niente, bella target when you're ready ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti